Continua a far discutere la bocciatura da parte del Consiglio Comunale, giovedì scorso, del progetto Benco. Dubbi li solleva anche l'ex consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Maria Teresa Tomada, secondo la quale la bocciatura sarebbe illegittima. Perché c'è una contraddizione sull'articolo 23 fra regolamento e statuto. Secondo il nostro regolamento gli astenuti non si contano, cioè come se non fossero presenti. Per cui 22-19 la delibera sarebbe passata. L'ex consigliera ha già fatto sapere di aver consegnato ai legali di Hager & Partner tutti gli incartamenti del caso. Ora starà infatti a René Benco e ai suoi legali procedere di conseguenza.